Grazie Presidente, rispetto a questo ordine del giorno è un po' curioso come è stato articolato perché ci si pone il problema che se nel 2024 non si dovesse raggiungere l'obiettivo del 57% di raccolta differenziata, a questo punto i rifiuti indifferenziati che dovrebbero essere al 43%, sarebbero di più e dunque si aprebbero dei costi maggiori. Io credo che questo piano rifiuti, lo dico con molta franchezza, in un primo momento c'eravamo dati degli obiettivi sicuramente più alti e ora in realtà stiamo riconsiderando certi obiettivi e li rendiamo molto più aderenti al percorso e alla situazione attuale della città, non credo proprio che sia votabile un ordine del giorno del genere, che si pone un problema di questa portata perché io credo che gli obiettivi inseriti all'interno del piano industriale di poter arrivare al 57% di raccolta differenziata nel 2024 siano degli obiettivi in linea con le indicazioni del piano industriale stesso. Faccio presente alla collega Abbaio per quanto riguarda i rifiuti della raccolta stradale, differenziati della raccolta stradale che hanno delle percentuali anche in alcuni casi elevate di materiale non aderente alla raccolta stessa del cassonetto, è la stessa identica di quando governavano loro, perché è la raccolta stradale che delle volte porta a questo tipo di risultato, per cui si sa che nella raccolta stradale della raccolta differenziata, della frazione differenziata ci sono dei risultati inferiori rispetto al porta a porta e rispetto alla qualità del materiale stesso, pertanto per queste ragioni a questo ordine del giorno voteremo contrario. Grazie Presidente.